So alla popolazione di Haiti, che vive in condizioni al limite, chiedo ai responsabili delle Nazioni, di sostenere questo paese, non lasciarlo solo. E voi, tornando a casa, cercate notizie su Haiti e pregate, pregate tanto. Il processo di riunificazione familiare, molti residenti etrangeri in Chili dovrebbero entrare in una famiglia, come madame, mari, petite. È un processo che il paese a mettere in place di Pito a l'anno. Ma comunque tutto è stato un processo che è fatto capire a causa della pandemia del coronavirus. Quindi l'Organizzazione Internationale Migration, OIM, con l'appuio del governo, ha deciso di rilasciare il processo di riunificazione. È normale, perché quando ho avuto una famiglia, ho trovato una vita normale per me per occupare la famiglia, perché ho avuto la famiglia. Inoltre il mondo, che si è rilasciata in Chili, ha ottenuto qualche papi libri di bisogno per fare un processo avancato. Quattro identità residenti in un paese, un passaport che non ha expirato, certificato di nascere, certificato di nascere o certificato di mariare, non ha dipenduto da chi ma fa fare entrerciare. Non ci si può andare a fare. Non ci si può avere la famiglia di farcala, perché è essenziale, ci si è bisogno per avere un risultato che ci sono bisogno per andare a fare un risultato che ci sono bisogno per avere un risultato. Si non ci si può avere un risultato che ci sono bisogno per fare un risultato che ci sono Non c'è nessuna possibilità. E noi conosciamo bene per quanto riguarda la situazione del mondo. Non è così facile per dire che ci sono state di fare il mondo. Non c'è nessuna forte, non c'è nessuna probleme. 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 Non c'è nessuna probleme che il governo si può fare. Sto che io sia questa missione. Come andiamoci a lasciare il nostro bambino spesso da te per farciare e capire che. Per farciare il nuovo da attività in quanto riguarda i tutti i 5 anni e, perché ci sono i 5 anni, 5 anni non c'è nessuna famiglia. Ci sono i più buoni tanti. Ci sono i più buoni, ci sono i più buoni decisione che facciamo. Il processo è questo l'altra opportunità che tutta Issa la comprendsta per avere un ragione che vive il suo pagine che il nostro patrimonio è inscritto sul mio futuro. Brè, ton abu l'am se si Heeey Abilè bai video sa yon like Soutere men, patajè la dizanmo fan men Più plis pou n'ka rive joie nami De yon fason pou ka supporte yon Ciao ciao na kwazi nan dott video yonko